Buonasera, sono Inzi Lomaria, sono nata a Palermo il 25 febbraio del 1997, ho 24 anni. Faccio questo video perché ho visto delle posizioni aperte nel web e io vorrei candidarmi a queste posizioni aperte. Sarei molto interessata, parlo sinceramente, non ho esperienza nel settore, ho fatto un anno di servizio civile in una scuola privata e poi dopo la fine del servizio civile mi hanno presa fino a maggio di quest'anno. Vorrei far parte della vostra azienda appunto perché la ritengo molto seria e poi è molto interessante, diciamo, l'ambiente. Ovviamente sono una ragazza che vuole apprendere, vuole imparare e appunto leggevo nella descrizione dello stage che praticamente verrò affiancata, se verrò presa ovviamente, verrò affiancata da una persona abbastanza, diciamo, già preparata e quindi mi sentirei pronta, ecco. Spero che questo mio video vi abbia convinto e spero di ricevere molto presto da voi una risposta. Speriamo positivo ovviamente. E niente, buona serata.